Buongiorno ragazzi, bomba di calciomercato bella per tutti, oggi siamo con un nuovo video perché voi pensereite ma non devi fare il postpartita no, perché ho scoperto una cosa incredibile, il Napoli sembra sia molto vicino a Oshima, cioè allora adesso vi dico sto leggendo una notizia tutt'ora qua al computer, cioè praticamente è fatta, deve solo filmare qualche cosa burocratica, se aspetta queste cose qua che si fanno abitualmente, speriamo poi non finisca come Malcom per il Napoli, come vi ricorderete, Malcom dove andare l'ora ma poi l'ha preso il barcelona all'ultimo ma era tutto ufficiale praticamente come adesso conosciamo, ma comunque quello è stato un caso, capito? è incredibile adesso che poi magari, insomma, l'origine su Sky Sport è diventato un giornalista esperto di calciomercato, c'è Luca Di Marzo che penso che lo conoscete tutti, rilasciando alcune dichiarazioni, adesso ve le leggo per, ah ragazzi, scariciamo un football, io questa notizia ho letto su un football, adesso lo sto leggendo su Google, sul sito di Calcio Napoli24, il sito del Napoli, delle notizie del Napoli, insomma scariciamo da un football, comunque la migliore roba del calcio, potete trovare qualsiasi cosa, veramente, anche ciabatta contro blocco quaderni, potete trovare perché, perché sì, c'è di tutto e di più, quindi tutte notizie, tutto, sta lì, dovete solo scaricarla, non è per sponsorizzazioni, ma comunque, se volete, non è una sponsorizzazione, ma se volete scaricatela, che non, non prendo un cazzo, dovete farlo, punto, allora, per quanto riguarda Victor Oshman, l'estitamento e la chiusura è avvenuto perché durante l'operazione ho deciso di cambiare il procuratore è arrivato un altro, ed in questo caso le lungaggini passano anche adverso un nuovo intermediario italiano, intermediario, e come si dice questioni solo burocratiche, operazioni definite in tutto e per tutto, cioè praticamente adesso ci manca poco alla all'ufficialità, ecco, praticamente ufficiale secondo me è un grande affare, pagato 60 milioni, l'ho letto, ma aspettate che non ne sono sicuro, però se in caso fosse così, 60 milioni, forse un po' tantino per un 21 anni, comunque, non è che è male, magari tecnicamente l'ultimo sono anche, però è veloce, ha fisico, è forte, fa dei bei goal, assist, ha fatto in totale 31 goal e assist cioè tra assist e goal e ha fatto 31, allora adesso vi dico, allora ha fatto, in Coppa di Francia, allora, aspettate, vi leggo le statistiche questo calciatore potrebbe essere molto interessante per il Napoli, non è che può vincere lo stesso, il prossimo anno, però, nel senso, è forte magari tecnicamente non è tutto solo anche, però è forte, c'è fisico, cioè fa dei bei goal, dei bei assist, comunque il suo lo fa vi volevo leggere, allora, il Lille, con Lille, vi dico un attimo aspettate un attimo, allora, vi dico un attimo cosa ha fatto in Lillian contro il Lille allora, 27 partite, 13 goal, che non è male, secondo me, poi gli assist, non so dove si vedono non li trovo, bene vabbè, comunque, ragazzi, c'era scritto lì, comunque avevo letto che in totale hanno fatto 31, quindi 13 per arrivare a 31, ne ha fatti, ne ha fatti gli assist, ne ha fatti quindi, ragazzi, io vi dico che, comunque, buon colpaccio per il Napoli, che, allora, il prezzo non è ancora definito cioè, nel senso, non lo so se era inizialmente il prezzo, dato quello che avevo messo su YouTube come titolo questo YouTube aveva messo 60 milioni ah, eccolo, infatti, allora, Vittor Romano, come si chiama, è di Napoli, tutto fatto le descrizioni si rincorrono di ora in ora, e così anche i giornali si è esperto in mercato Niccolò Shaira, ha dato altre novità attraverso Twitter, non so chi sia questo, sinceramente se lo sapete, scrivetelo nei omiti, e questo Niccolò Shaira, come Shira ah, Niccolò Shira, sì, lo conosco ha fatto qualche diretta agli autogol sì, sì, sul fatto del fantacalcio, infatti, li seguo molto i suoi consigli ho chiesto anche su Instagram, non se gli manca risposto, quindi, ragazzi è un grande esperto in fantacalcio, è la regola anche di calciomercato comunque, affare fatto per il Vittor Oshman, dice al Napoli De Laurenti se lo pagherà 50 milioni più 10 milioni di bonus quindi toglie 60 milioni di euro, voracione accordo lei con il Lille, il Napoli ha anche concordato per le mie persone all'attaccante nigeriano per un contratto fino al 2025, 3,5 milioni di bonus annuali l'annuncio ufficiale sta arrivando, posso scrivendomi insomma, è tutto ufficiale, è tutto già fatto allora, ragazzi, io vi ho detto tutto di questo grande attaccante, magari ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo colpaccio per il Napoli, sono un buon colpaccio anche perché i prezzi, va bene, sono saliti rispetto magari a qualche anno fa nel senso, magari adesso diciamo che se era un po' di anni fa lo pagavano di meno perché sapete adesso i prezzi sono raddoppiati rispetto a qualche anno fa quindi comunque, 60 milioni forse un po' tantino per un 21enne però, significa che se ne hanno pagato 50 milioni di 10 milioni di bonus cioè in totale 60 milioni credo sia che comunque è forte comunque vi ho visto anche qualche video di studio YouTube di skill, goal, insomma assist insomma, gioca bene, gioca bene tecnicamente non è che proprio cioè a livelli di Ronaldo però tecnicamente, vabbè, quello però è forte fisico bene goal bene assist bene fa anche dei buoni passaggi un po' tutto con i lanci di insegna magari lo botca insomma può diciamo fare qualche goletto la prossima stagione in Serie A quindi in Coppa Italia in Europa League insomma il Napoli è andato andrà in Europa League perché ormai la Lazio è in Champions League quindi ufficialmente matematicamente insomma poi anche in Europa League potrebbe fare bene se in Coppa Italia sia in Europa League quindi ragazzi io vi dico tutto fatemi sapere cosa pensate in questo colpaccio interessante che vi devo da dire nulla scrivete nei commenti se pensate lasciate un mi piace scrivete al canale attivate la campanellina però non perdevi tutti i miei nuovi video che caricherò in seguito oggi però ragazzi farò comunicato vedrò un comunicato stasera esco a cena quindi molto probabilmente farò il post partita solo del 5 e un quarto perché alle 7 e mezza non la vedrò tutta di sicuro perché finirà tipo alle 9 quindi però quello del 5 e un quarto farò di sicuro il post partita e in quelle di domani anche poi ci sarà anche il post gara dei domani della VotoGP quindi ragazzi comunque vabbè forse arriverà anche la live reaction di JoveSandori post partita di sicuro e forse la live reaction comunque vi faccio sapere su Instagram cioè seguitemi andri tantino basso fuori tutto minuscolo quindi nulla ci vediamo al prossimo video se non vi piace iscrivetevi al canale e iscrivetevi nei commenti se siete messi a questo colpaccio del Napoli e ditemi secondo voi se il prezzo è giusto oppure se l'aveste pagato o di meno bella raga se vediamo al prossimo video ciao a tutti